Ciao, ciao, è difficile spiegarlo, sto cambiando, mi sento diverso. A me, un fusto di pirammi. Cerca di essere obiettiva, eh? Come mi vedi? Noti qualcosa di strano in me? Che cosa intendi di preciso quando dici il citato? Di qualunque cosa si tratti, figliolo, puoi parlarne con me. Marti, apri immediatamente la porta. Penso proprio di doverti una spiegazione, figliolo. Una spiegazione? Guarda la mia faccia e guarda la tua! Sei diverso dal solito stamattina. Hai cambiato pettinatura? Tu, 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 tu. E' Gekiele o come diavolo ti chiami? I lupi! Al mondo un lupotinico non esiste. No lo��! No, no! Grazie a tutti.